Uedì, nuove anticipazioni, la vigna in crisi la scelta, Riccardo rifiutato da Cristina. Cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne che saranno trasmesse tra fine febbraio e marzo in tv? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Riccardo Guarnieri, il quale si lascerà andare ad una dichiarazione importante e inaspettata nei confronti della dama Cristina. Occhi puntati anche sulla vigna Mauro che, nel corso delle prossime puntate, confermerà di essere ancora in forte crisi in merito alla scelta finale da fare tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e Donne rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere si ritroverà al centro dell'attenzione perché deciderà di fare un passo avanti importante nei confronti della dama Cristina. Il cavaliere pugliese, senza troppi mezzi termini, deciderà di dichiararsi alla dama sperando di poter intraprendere una frequentazione con lei. La reazione di Cristina, però, non sarà affatto delle migliori, stando agli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sui social. La dama Cristina rifilerà un sonoro rifiuto a Riccardo e preferirà evitare di vedersi anche solo per un caffè. Il motivo? Cristina ammetterà di essere interessata ad un solo cavaliere del trono over, trattasi del napoletano Armando Incarnato. E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne rivelano che si tornerà a parlare anche di Lavinia Mauro. Protagonista di una nuova esterna con Alessio Campoli. La tronista, però, ha avuto modo di polemizzare nei confronti dell'altro pretendente Alessio Corvino. Il motivo? Non ha gradito il fatto che il corteggiatore non abbia fatto nessun gesto nei suoi confronti, in occasione di San Valentino. A quel punto, sarà Corvino a mettere in chiaro le cose, precisando che lui festeggia San Valentino solo con la sua fidanzata. Sta di fatto che, alla fine di questa nuova registrazione del talk show pomeridiano di Canale 5, è emerso che Lavinia sia ancora in forte crisi in vista della scelta finale. A distanza di un po' di mesi dall'inizio della sua avventura in studio, Lavinia non ha ancora le idee chiare su chi scegliere tra Alessio Campoli e Corvino. Riuscirà a farsi un quadro completo della situazione nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione oppure si assisterà all'ennesimo abbandono di questa stagione? Lo scopriremo nel corso dei nuovi appuntamenti con Uedì. Ok, grazie. Ok, grazie. 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 Grazie a tutti.